Ci portano a seguire le vicende, anzi il probabile a questo punto sembra quasi certo, ritorno di Pato in Europa. Pato sembra aver raggiunto un accordo con la società per una cifra intorno ai 30.000 pound a settimana. Voi sapete che qui in Inghilterra i giocatori vengono pagati a settimana e appunto si trasferirà alla fine delle visite mediche. Sembrava esserci stato qualche difficoltà tra Pato e la società, ma dopo aver animato gli accordi... Dicevamo appunto un caro saluto da Stanford Bridge. Arrivederci.